GEMMA GALGANI Gemma Galgani è una fan del reality show di Canale 5 condotto da Hilary Blasi. La storica dama del trono over di uomini e donne ha voluto dare il suo sostegno ad una delle concorrenti, a quanto pare, anche l'ex di Giorgio Manetti ha le idee chiare sulla persona, che vorrebbe veder vincere la trasmissione. Durante la diretta in onda lunedì 20 novembre 2017, la signora del parterre femminile dello studio di Maria De Filippi ha condiviso un messaggio del tutto inaspettato nei riguardo di una delle inquiline della casa più spiata d'Italia. Gemma la scopriamo infatti fare il tifo per la bellissima Giulia De Lellis, Gemma Galgani ha spiazzato tutti i suoi followers e non solo pubblicando un post dedicato alla fidanzata di Andrea Damante. Le due si sono conosciute nel corso della speciale puntata di Uomini e Donne andata in onda in prima serata la scorsa stagione, la dama di Torino e l'ex corteggiatrice del trono classico si sfidarono infatti in una sfilata di moda. Ricordi di una bellissima esperienza condivisa con tante persone, tra cui anche Giulia De Lellis, giovane, garbata, diretta, la ragazza del popolo. Così ci piaci, forza Giulia insomma, la Galgani sa bene per chi fare il tifo al grande fratello Vip, intanto, però, la dama del trono odier ha avuto delle bellissime parole anche nei confronti di Daniele Bossari. Gemma Galgani di Uomini e Donne fa il tifo per Giulia De Lellis al grande fratello Vip, nonostante faccia il tifo per la bellissima Giulia, la Galgani ha voluto condividere il suo pensiero anche nei confronti di Bossari. Per quanto riguarda gli altri concorrente mi piacerebbe vedere in finale Daniele Bossari, grande uomo di cultura, che con le sue sagge parole ha illuminato la casa, brilla di luce pure, che in pochi anni, forza Daniele. Insomma, anche la dama di Uomini e Donne è una fin del grande fratello Vip.